Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi voglio vedere, e voglio parlare con voi, di quanto può crescere un natural, qual è il limite del natural e se possiamo, scusate, ho la voce un po' roca, se possiamo effettivamente determinare a prima vista se un atleta è natural o no. Ed è una delle cose più stupide, più insensate, più no sense, senza motivazione proprio, che credo che si tenti di fare in generale. Allora, partiamo con la crescita del natural. Quanto può crescere un natural e a che limite può arrivare? Allora, realmente è molto breve da questo punto di vista. È molto molto soggettivo, bisogna vedere il punto di partenza, se una persona parte da una situazione di sottopeso, denutrita, mangiando tendenzialmente poco perché ha poco appetito, eccetera, una persona parte in sovrappeso, eccetera, eccetera. Però, quello che possiamo dire da un punto di vista muscolare è che il neofita, quindi parliamo dei primi anni di allenamento, può arrivare a guadagnare 3-4 kg di massa muscolare l'anno, un intermedio guadagnerà e rosicchierà un chilo massimo di massa muscolare l'anno e quando iniziamo a diventare avanzati, raggiungiamo quello che è un nostro limite, diciamo, genetico di peso corporeo, si tratta di lavorare sui dettagli, quindi realmente non si parla neanche di guadagnare chili. Gli atleti avanzati sul palco si presentano quasi sempre allo stesso peso corporeo, si presentano magari anche qualcosa in meno ricercando un tiraggio maggiore e lavorano su quelli che sono i dettagli muscolari, quindi presentare quella striatura in più, quella profondità muscolare in più, quel piccolo tiraggio in più, quel piccolo punto di BF in meno, eccetera, eccetera. Quindi questo è da un punto di vista del progresso da Natural. Quindi sì, nel giro di pochi anni si andrà a mettere quel chilo di massa muscolare l'anno, netto, a parità di top condition, a parità di BF, e quando si inizia a diventare avanzati non ci si deve più aspettare un guadagno di peso, quindi è un parametro che non dobbiamo andare a vedere realmente il peso corporeo come varia di anno in anno, ma più che altro inizia a diventare tutta una questione di specchio, e questo parlo logicamente per atleti agonisti che vogliono migliorare la loro resa sul palco. Ora, detto questo, il motivo per cui faccio vedere questo video è che ultimamente molti atleti Natural hanno gareggiato in federazioni Enhanced Open, ultimamente di molti atleti Natural è stato detto sono in realtà Atleti Enhanced, e credo che, al di là del fatto che sia una cosa stupida su cui riflettere, su questo torneremo, credo che non si capisca realmente cosa determina, tra virgolette, un atleta Natural o meno. E realmente quello che possiamo vedere in Atleti, per cercare di capire, non mi piace parlare di cercare di capire se sono Natural, però quello su cui possiamo riflettere, mettiamola così, sugli atleti è questo, innanzitutto il loro peso corporeo. Vedere un atleta in foto, un atleta Natural, dotato genicamente in foto, è sempre qualcosa di straordinario quando li vediamo in top condition sul palco. Perché questo? Perché è una foto, è una foto di un atleta, è uno screenshot, un atleta che ha un livello di BF molto molto bassa, si vedono tutti i dettagli muscolari, e da una foto realmente non si può apprezzare quante masse muscolari l'atleta abbia. Realmente, vediamo un atleta che dalla foto può sembrare un atleta di 90 kg, di 100 kg, ma in realtà ne pesa 70. Quindi il peso corporeo ci dice tanto di un atleta, atleti che stanno su un palco a 70 kg, 75 kg, anche meno di 70 kg, questo già ci fa capire che è difficile che sia in Unlust. Recentemente è stata postata una foto di un atleta qua in UK, che sta cariggiando a livello internazionale, sta andando veramente veramente bene, sta ottenendo tantissimo successo e tantissimi complimenti dalla comunità del bodybuilding inglese, o del Regno Unito in generale, britannica, e in Italia già si è postato uno screenshot in cui aveva una leggera lipomastia, o sembrava avesse una ginecomastia, ma non era veramente una ginecomastia, si vedeva che non c'era una ghiandola ipertrofica dietro, e gli è stato detto, ah, è doped. E la cosa che ho detto io è, ragazzi, l'avete visto dal vivo, è un atleta che pesa veramente poco, è veramente piccolo, quindi anche volendo far uscire una ginecomastia con l'utilizzo di steroidi, rimanendo così piccoli, è una cavolo d'arte, è letteralmente impossibile. Cioè dovresti avere soltanto i side e nessun effetto, tra virgolette, benefico a livello ipertrofico per arrivare a un qualcosa del genere. Questo perché? Perché vedendo una foto non si apprezza, non si apprezza, non si vede quello che è il peso corporeo dell'atleta. Quindi una prima cosa, ragionate sempre sul peso corporeo di un atleta. Un atleta in anst, un atleta natural non potrà mai essere troppo pesante, un atleta in anst non potrà mai essere troppo troppo leggero, ovviamente proporzionato all'altezza e alla struttura. Ora, detto questo, il secondo punto è ragionare su quelle che sono le inserzioni muscolari. E qui mi ricollego al discorso del peso. Perché un atleta in foto sembra immenso? O un atleta, vedendolo anche dal vivo, può sembrare molto grosso, con dei distretti molto sviluppati. Per un discorso di inserzioni muscolari, se hai una struttura ossea, ovviamente una struttura a livello di inserzioni molto favorevole, un bicipite di 40 cm può sembrare un bicipite di 50 cm, un quadricipite può sembrare super stondato, un atleta di 70 kg può sembrare un atleta di 90 kg. Cioè, il bodybuilding è uno sport estetico, quindi non è un discorso di mera massa muscolare, ma un atleta che ha poca massa muscolare, un atleta natural, può risultare molto molto più estetico, molto molto più grosso di un atleta enhanced, che ha più massa muscolare. Quindi anche qua un discorso sta nell'analisi di quella che è la massa muscolare. Tanti atleti natural vengono visti come idoli, ma sono atleti che realmente hanno messo poca massa muscolare nel corso della loro carriera, non hanno ottenuto grandi risultati da un punto di vista ipertrofico, ma sono semplicemente bellissimi, hanno delle inserzioni fantastiche, e quindi la resa sul palco, anche se l'allenamento non è super efficace, se non curano le cose come andrebbero curate, la resa sul palco è straordinaria, perché sono atleti con inserzioni veramente meravigliosi, con corpi belli, corpi estetici, e questo è il bodybuilding, ragazzi, che piaccia o non piaccia. Mentre un atleta magari che ha curato l'allenamento del dettaglio, natural enhanced non conta, un atleta che ha curato l'allenamento del dettaglio, che ha migliorato tantissimo, è sviluppato tantissimo, ha creato tanta tanta ipertrofia, magari sul palco risulta piccolo, risulta meno estetico, quindi ahimè ti sei spaccato il culo, ahimè hai lavorato molto molto bene, sei un tecnico in gambissima, sei un atleta straordinario in sala, ma sul palco non rendi, perché? Perché hai delle inserzioni sfavorevoli, quindi i tuoi 90 kg sembrano 70 kg, sembri molto molto più piccolo, perché le inserzioni, la genetica, la struttura ossea, quello che ti pare, non è a tuo favore. E qua entriamo in un altro discorso, riguardo alla crescita ipertrofica, realmente vedete quanto un atleta sia cresciuto, in generale, nella sua carriera. Ci sono atleti che semplicemente sono straordinari, ma sul palco sono sempre esattamente identici, e questo, da inizio carriera, dai primi show, fino agli ultimi show, cambiano e migliorano qualche dettaglio. Questo perché? Perché sono atleti che semplicemente hanno avuto una crescita ipertrofica X, che da natural ha una vita, come abbiamo visto, molto breve, perché nei primi anni 3-4 kg, poi un chilo, poi realmente ti fermi, e da là hanno iniziato a lavorare sui dettagli. Quindi sono sempre gli stessi di anno in anno, non migliorano il peso corporeo, ed è un qualcosa che difficilmente accade nel circuito enhanced, dove gli atleti, dai primi show agli ultimi show, iniziano a guadagnare tanti tanti chili, poi ovviamente anche in quel caso, a un certo punto si arrestano, ma hanno una vita, da un punto di vista di peso corporeo, aumento del peso corporeo molto molto più ampia, molto più lunga. Quindi anche questo, vedere l'atleta che cosa porta di anno in anno, e se un atleta dall'inizio della sua carriera è sempre rimasto a quel peso corporeo, ha migliorato i dettagli, o ha sempre presentato bene o male determinate carenze muscolari, allora riflettiamo esattamente su questi dettagli, invece di additarlo a enhanced, soltanto perché ha un bel fisico, una bella resa sul palco. Ok, ultimo ma non ultimo, o meglio, ultima considerazione finale. riguardo al motivo per cui io credo che sia veramente molto molto stupido ragionare sul fatto se un atleta è natural o non è natural. Ci sono degli atleti che pesano tanto, ci sono degli atleti che hanno delle bellissime inserzioni, che vincono in federazioni open, che vincono anche pro card in federazioni open, e quando li si vede dal vivo anche sono grossi. Ora, in questo caso, scatta subito il pensiero, natural, non natural, enhanced, bara, gareggio in federazioni, natural, essendo in realtà enhanced, enhanced, eccetera, eccetera. È stupido pensarlo, perché ci sono persone che sono veramente alte 2,10 m, ci sono persone che sono alte 1,50 m, la diversità nel mondo è veramente, veramente immensa, e ci saranno inevitabilmente quelle 2-3 persone che hanno una predisposizione straordinaria a crescere. Ora, non dico che tutti gli atleti natural giganteschi hanno questa predisposizione, però di tutti quelli che sembrano palesemente enhanced, ma dicono di essere natural, ce ne sarà uno, ce ne saranno due, che realmente sono natural, e è un discorso di genetica. Ora, quello che vi chiedo a voi, che cosa vi cambia? Perché, ah, il pensiero che c'erano le persone è, ok, se questa persona sta così bene ed è natural, allora se faccio quello che fa lui, divento come lui da natural. Non è così, ragazzi, perché se vedete un atleta così straordinario, i casi sono due, è enhanced, o prendete la chimica, avete una possibilità di diventare come lui, ma anche in quel caso, se le inserzioni sono belle, o le avete o non le avete, quindi la cosa non vi cambia, 2-3 è un discorso di genetica, e anche in quel caso, non lo raggiungete. Quindi quando guardate e vedete questi livelli, non vi cambia niente sapere se è natural ed è un discorso di genetica, o se è un atleta enhanced ed è un discorso di chimica, perché in tanti casi, da natural, almeno se volete rimanere natural, non è qualcosa per voi replicabile. E cos'è meno replicabile? Anzi, il discorso genetico è ancora meno replicabile. Quindi da questo punto di vista, cioè, bara di più un atleta che ha una genetica favolosa, e che rimane in circuito amatoriali, nel suo cavolo di paese, senza confrontarsi a livello internazionale, e fa uso della sua genetica meravigliosa, per combattere tra atleti di una genetica mediocre, rispetto ad un atleta che fa uso di chimica. Cioè dal mio punto di vista, è molto più condannabile un atleta che ha una genetica meravigliosa, è che continua sempre sugli stessi circuiti nazionali, a vincere, stravincere, stravincere, senza confrontarsi con atleti del suo livello, da un punto di vista genetico. È la stessa identica cosa. Utilizzi la chimica, stai su circuiti natural, utilizzi la genetica, stai su circuiti amatoriali di basso livello. E non ti schiodi da lì, continui a vincere, continui a farti oro, e continui a farti grande di vittorie, di un livello che è molto più basso del tuo, perché sei nato con quella genetica. Quindi questo è. Per cui, tante riflessioni in merito, però, realmente il punto di questo video, ragazzi, è che credo che siano domande e cose stupide. Il consiglio che vi do, prendete il meglio da ogni atleta. Qualsiasi atleta, analizzate quello che fa da un punto di vista di allenamento, mettetevi in discussione, cercate di essere curiosi, cercate di capire esattamente che cosa sta facendo, se quello può funzionare, sperimentate, perché da ogni atleta si può imparare qualcosina. Sia se è enhanced, sia se è una genetica meravigliosa, sia se è piccolo, sia se ha lavorato tanto da un punto di vista ipertrofico, ma ha delle inserzioni sfavorevoli, potete sempre imparare qualcosa. Quindi mettetevi sempre in discussione, cercate di imparare sempre qualcosa, da qualsiasi atleta, senza entrare nel pregiudizio, senza essere attirati dal fatto che sia grosso, meno grosso, enhanced, presunto, natural, eccetera, eccetera. Quindi cercate sempre di mettervi in discussione, e di imparare qualcosina. Ragazzi, detto questo, voglio le vostre considerazioni qua sotto, ovviamente qualsiasi domanda sarò ben lieto di rispondere come sempre, e io vi rimando al prossimo video.